Ah, finalmente me ne sto andando un po' in viaggio, perché ormai non so neanche più cosa vuol dire viaggiare, ormai sono sempre costretto a fare roba su roba, ma a sto giro ce ne stiamo andando alle Maldive, se non ricordo male, comunque che da qualche parte stiamo andando. Gettine gentaglia, vi auguro un buon viaggio, alla vostra sinistra potete osservare una bellissima isola tropicale. Oh, ok, guarda lì che belline, guarda quanti minerali ci sono sopra, ah, quello sì che è bello, che peccato non poterci andare. Oh, 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 cosa devono stare? Oh no, questa non va bene, eh. Siamo in situazione di margenza, tutti in riparo! Tutti in riparo? Oh cavolo, corri, 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 maledizione, ma perché sono salito su questo aereo? Oh, oh dio, oh cavolo, oh, oh, giusto, eh, mi sa che mi sono schiantato, quindi eh, ho del fuoco, ho tanto fuoco attorno a me, e ho pure nel sentore, quindi tu vieni qua e spegni cortesemente tutto questo fuoco, e qua c'è qualcosa che non va. Anche perché in tutto questo mi sono appena accorto che ho cambiato anche aereo, non so in come, in qualo è multiverso, però comunque è stato cambiato, non mi faccio domande. Ma la cosa più critica è che al momento mi sono schiantato Per fortuna non mi sono fatto male Ma rimane comunque che ora mi ritrovo in un'isola deserta Dove non c'è nulla e senza risorse Quindi sicuramente la prima cosa da fare è vedere se c'è una riserva di risorse Quindi magari quello che stavamo trasportando E direi che qua abbiamo un sacco di roba Ok, perfetto, meno male che stavamo trasportando tutta sta roba Che non so cosa gli sarebbe servita Però comunque a noi ci torna utile Perché è l'unica cosa che abbiamo O per meglio dire che possiamo prendere Quindi non facciamocela mancare E qua abbiamo pure un sacco di roba Cioè ma è piena di roba Sto cavolo d'aereo Che cavolo se l'aspettava che fosse così pieno Ok, per fortuna abbiamo anche una luce che stavo già per perdere Quindi stiamo attenti a non perdere Finiamo di prendere tutto quello che abbiamo in queste chest E ora cerchiamo un attimo di capire dove siamo finiti Quindi prima di luttare tutto il resto Vorrei capire se c'è effettivamente una via di fuga E la cosa più strana è capire come diavolo ho fatto sopravvivere a un crash A un aereo A uno scanto aereo Però comunque non mi faccio domande Ok, e mi sa che abbiamo un piccolo problema Perché siamo nel bel mezzo dell'oceano Ma perché io anche quando vado in vacanza non me la posso godere Comunque abbiamo solo un accendino Supponendo che veramente siamo in mezzo a un oceano Presumo che l'unico modo di uscire da questo inferno È quello di procurarsi, beh, come dire Un portale del nether Quindi proprio per questo vediamo tutto quello che abbiamo qua dentro Sperando di avere più roba possibile che ci possa tornare utile E direi che così almeno un minimo vestiti siamo E ora vediamo se c'è qualcos'altro che ci può tornare utile Assolutamente il cibo È un backpack, questa cosa è iper mega utile Quindi indossiamolo subito Ok, quindi indossalo per venire Guardate come mi sta bene Poi qua dentro abbiamo una bellissima ascia che ci torna super utile E ora andrei nella cabina di comando Dove non mi sembra che ci sia molto Non mi sembra di vedere roba utile Ma abbiamo qua qualcosa Abbiamo molto cibo Quindi anche questa cosa è estremamente utile Ma adesso è il momento di capire come scappare E l'unico modo come vi ho già detto È probabilmente quello di fare un portale del nether Però per questo partire col prendere della legna Corre un pochino in mezzo alla foresta Quindi magari ecco saliamo E ora addentrarci nel bel mezzo della foresta Quindi tu vieni con me e non provare a scappare Quindi aggrappati cortesemente e ora sali Ok, almeno così dovrebbe Meno male che mi sono un po' allenato in parkour Perché se no da qua sarebbe stato difficile scalare Ok, in questa foresta non so cosa possa trovare Ma sicuramente trovare magari qualche animale Non sarebbe una cosa brutta Anche perché qua la pioggia sta diventando sempre più forte E mi sa che gli alberi non li posso rompere Quindi probabilmente non sono i soliti alberi di Minecraft Maledizione a me Ma perché io non posso veramente mai farmi una vacanza E devo sempre ritrovarmi in queste situazioni Ora, ho attraversato completamente l'isola Nel mentre che mi dispero E vorrei vedere se da questo lato dell'isola Abbiamo del cibo che fa sicuramente comodo Ma sento anche dei mob Qua dove cavolo sto? Ok, c'è una caverna Andiamo piano Non voglio rischiare la mia vita Quindi procediamo con molta cautela Vorrei capire dove diavolo sono finito Sono finito in un'isola indigena Mi stai dicendo? Cioè non bastava solo che sono finito su un'isola Pur un'isola indigena Mi dici Sì, direi che proprio con un'isola indigena Però le ossa me le rubo Anche il bambù E un po' di cobblestone che non fa male Ora, qua abbiamo un sacco di lanterne e roba che non ci serve Ma ora quello Ho sentito il rumore di un villager Ho sentito Un villager Signor villager, tutto bene? La prego, mi aiuti, la prego Eh, eh, signor villager Deve darmi il tempo Non ho ancora un piccone La prometto che la verrò a salvare Ok, quindi stiamo attenti Perché se c'è lui Vuol dire che ci saranno anche degli indigeni O almeno, penso almeno Che non sia una cosa abbandonata E presumo di sì Quindi rubiamoci tutto E direi che un mini avamposto Lo potremmo fare anche qua dentro Anche perché qua Dobbiamo sopravvivere in qualche modo Quindi sì Procediamo a crearci un avamposto Quindi crafting alla mano E iniziamo a crearci un po' di roba Ad esempio Una fornace che sicuramente Non ci torna scomodo E iniziamo a cuocere qua La roba Ecco, quindi metti Tipo il legno Poi abbiamo delle granate Un po' di equipaggiamento Non male Delle razioni Anche queste Molto utili Ma ora quello che voglio fare io È andare a creare Un piccone in ferro Con il quale possa Andarmi a creare Un bel rifugio E magari andare a liberare Anche quel villager Che magari sa qualcosa in più Che noi non sappiamo Quindi subito Un bel picconcino In ferro A questo punto Andiamo a liberare Il nostro caro e amato Signor villager Sperando che abbia Qualcosa di utile Quindi signor villager Ecco Venga fuori Grazie Ecco lei È libera Grazie di avermi liberato Te ne sono grato Signor villager Stia tranquillo Però comunque ora Le devo chiedere una cosa Per caso Ha qualche informazione Una mappa Su quest'isola Glielo chiedo Perché sennò Potremmo essere tutti e due morti Certo certo Chiedi tutto Oh grazie signor villager Mappa dell'isola Aspetta Ma che mi stai Ma gu... Signor villager Dove l'ha reperito Una mappa così bella Mi scusi L'ho rubata Agli indigeni Spero ti possa essere utile E come se mi è utile Cavolo vedo tutto Cioè E qua noto una cosa Soprattutto Sto strana Sembra quasi che ci sia Un'altra zona In quest'isola Da andare immediatamente A esplorare Però prima Quello che voglio fare È Equivaggiarmi a dovere Quindi con un bellissimo arco E una spada E a questo punto Piazzare due belle chest E andarci a svuotare E andarci a svuotare per benino L'inventario E a questo punto Armati di mappa Andiamo a esplorare Quell'altra aria Quindi usciamo da di qua E sta pure smettendo di piovere Quindi meglio di così Non ci poteva andare E ora analizzando bene la mappa Noi ci troviamo qua E dobbiamo andare dall'altro lato dell'isola Quindi ci vorrà giusto un po' di tempo Ok Eccomi arrivati ragazzi Sì Questa è la zona giusta E qua abbiamo su un trattore Perché c'è un trattore Su un'isola deserta Eeeh Questa cosa non me la spiego E qua abbiamo una casa Addirittura Cioè scusami Stai dicendo che quest'isola Un tempo era popolata E qua abbiamo dei dipinti Eeeh Ok Non mi faccio domande Qua abbiamo Un vaso Non so cosa possa servire E abbiamo questo disco Ok Oh cavolo Sì ho capito quale disco è Eeeh Ecco Interrompi grazie Che non mi piace sentirlo E a questo punto qua abbiamo un sacco di varili pieni di legna E di grano Che sinceramente è quello che mi interessa di più E vorrei capire effettivamente Perché c'è una casa Penso che ci sia tipo il bagno Quindi aspettate un attimo Devo un attimo andare in bagno ragazzi One eternity later Ah Decisamente più libero Quindi Adesso Vediamo un attimo Perché dalla mappa Mi sembrava di vedere altro E di fatti Lì c'è altro C'è una cavolo di barca Ok Se lì non abbiamo qualcosa di buono Mi potrei seriamente arrabbiare Quindi barca Dimmi che almeno te hai qualcosa di utile Ok Non mi sembra Sembra che sia una barca Totalmente abbandonata In cui c'è del pesce cotto Quindi penso che sia una barca Con cui andavano a pescare Magari qua sotto c'è qualcosa No Ci sono solo blocchi ammuffiti Quindi saliamo un attimo Sì magari Devi riuscirci Ecco Devi Perché è un personaggio così stupido Ora Qua abbiamo altri barili Di cui non mi ero accorto prima È vero che voi avete qualcosa di utile Oh Qua sì che c'è qualcosa di utile Qua nulla Qua nulla Mi rubo solo i proiettili E le granate E anche Queste La polvere da sparo E proviamo a vedere Se qua nella cabina C'è qualcosa Ma neanche qua Mi sembra di vedere qualcosa E Lì Mi sa che c'è qualche altro Rimasuglio dell'aereo Come immaginavo E qua c'è l'unico barile Che non contiene nulla Quindi Penso che ci dovremmo accontentare Di ciò che abbiamo trovato Ora mangiamo un po' di reazioni militari E ora devo solo Cercare altro Perché con quello che abbiamo al momento Da quest'isola non scappo Sì abbiamo una barca Ma che sta affondando Quindi Sicuramente non è un'idea ottimale Ora seguendo magari il fiume Conoscendo più o meno Come funzionano gli indigeni Potremmo trovare qualcosa Ad esempio Una bellissima mucca Che è la preda perfetta Ideale Vieni qua piccola mucca Muori Bisogna del cibo Sento altre mucche Anche te vieni qua Però abbiamo anche un sacco di polli Che mi servono per creare le frecce Quindi facciamo un bello sterminio Che dite qua piccoli polli Datemi tutte le vostre piume Che mi servono per creare armi Grazie Quindi muori Bene direi che con queste piume Possiamo creare qualcosa Quindi prendiamo della legna E ora andiamo ufficialmente A creare le nostre frecce Dossa E con queste Sì che possiamo fare il devasto Ma ora torniamo alla missione principale Che è quella di seguire il fiume Sperando di incontrare qualcosa Che cosa c'è lì? Aspetta Vuoi vedere? Oh Ok Dove sono Oh Ok Torcia la mano E addentriamoci qua dentro Dove diavolo sono finito? Ok Sembra un tunnel sotterraneo Che non ho Oh Meno male che mi sono accorto di questa trappola Ci è mancato poco Che ci rimanevo secco Ok Quindi immagino che qua infatti C'è un bel po' di roba Ma qua abbiamo un parkour Che se sbagliamo Non facciamo una bella fine Quindi evitiamo di sbagliare Tanto io sono un maestro del parkour E ora cosa dovrebbe Oh Oro Tutto mio Ok L'oro non ho idea di cosa ci posso servire Però comunque è una buona risorsa Quindi me la tengo Ma ora voglio continuare l'esplorazione Perché se veramente c'è tutta questa buona roba qua dentro Vuol dire che ci deve essere un bottino bello Oh L'ho saltata Guarda A sto giro sopra Maledizione a me Meno male che l'ho realizzato Prima del previsto Oh Uno spawner Vabbè Non mi interessa lo spawner Ma mi interessa prendere l'oro E luttare tutto Quello che c'è qua dentro Ma non gli scheletri Gli scheletri proprio non li voglio vedere Ok Ruba gli diamanti Che sono la cosa più preziosa Insieme alle nederite Altro Altro mi serve altri diamanti Perfetto Altra roba ancora Ma tu muori No 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 Ci muoio Ci muoio Ci muoio Ci muoio Io ci muoio Io ci muoio Io ci muoio qua Ok distruggi subito lo spawner Potrebbe essere un serio problema Perfetto Qua non abbiamo altro di utile Vero? A parte l'oro Perfetto Quindi ora proviamo a proseguire in questo dungeon Stando attenti a che non ci siano altre trappole Quelle ci fanno fare una brutta fine Non mi sembra di vedere nulla di strano Quindi proseguiamo Tranquillo Sembra di sì Là in fondo c'è roba Però qua si continua Quindi proviamo a dare un'occhiata qua Ok questo rompelo subito Che a sto giro di zombie è sempre peggio Quindi ruba l'oro Che è la mia missione principale Che non ho idea di cosa ci possa servire dell'oro Però comunque va bene Andiamo a mettere un po' di roba nello zaino Quindi ecco Fai tipo una roba strategica Ovvero questa E a questo punto Golden Apple Sella Armatura per il cavallo In molti smeraldi E altri diamanti Ma ora rimane solo un'ultima zona ad esplorare Qua non c'è nulla vero? Ok presumo di no Ovvero questa qua di fronte a me Sì mi correggo Ce n'è un'altra E non c'è un bel signore che mi aspetta Buongiorno Buon uomo Non faccia casa a me Io sono solo 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 qui di passaggio E sei liberato Ok Non è come penso vero? Ok No non è come se E invece di che come sembra Ok non premere le pressure plate Ma è andata bene a sti giri Ma al prossimo mi sa che muoio Di qua non c'è nulla Nulla di che Perfetto quindi Ora scappa da qua Scappa 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 Ok quindi scappa Oh Per poco Ora nutriti E vai all'ultima zona Prima che qua ci rimetto le penne Ok Quindi qua cosa abbiamo Oh no 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 cavolo Era tutto la trappola Maledizione a me Oh Ci è mancato poco Però comunque abbiamo ciò che mi serve Ovvero lei L'ossidiana Quindi creiamo la crafting Creiamo gli stick E ora creiamo È vero che la crafting Ce l'ho integrata comunque Creiamo un piccone In diamante E a questo punto Ricopriamo tutta l'ossidiana Necessaria per creare Un vero e proprio portale Del nether Che mi permetterà di scappare Da quest'isola deserta Ok Ossidiana recuperata Ora bisogna solo Unicamente tornare a casa Che poi per pura curiosità Se io tipo facessi Tengo premuto Posso lanciare la spada A chi sta dove Bello Però ora la vorrei recuperare Grazie Ok Ora usciamo da questo dungeon E mi sa che si è fatta pure notte Questa cosa non è per niente positiva Quindi ho una torcia Non ho torce Non ho illuminazione Questa cosa non è positiva Ora torniamo al nostro avamposto Che ho il flint e steel Non ce l'ho dietro con me Quindi devo per forza Tornare al nostro avamposto Bene Eccoci tornati Quindi dammi il mio flint e steel E ora Direi che è il momento di Prepararci finalmente alla fuga Quindi prepara il tutto Esattamente in questa maniera qua Perfetto Non sbagliamo E ora diamo il nostro addio Al nostro caro e amato villager Quindi signor villager È stato un piacere Addio E ora È il momento Di scappare Quindi Torniamo finalmente A casa